bentornati a tutti su mind the chart nel video di oggi andiamo a parlare di coin call un exchange abbastanza nuovo ma che sta scalando le classifiche e vuole diventare il migliore exchange per quanto riguarda il trading di opzioni e inoltre voglio ricordarvi che a breve uscirà il loro utility token chiamato call e infatti c'è un interessantissimo airdrop voglio con voi andare a vedere la promozione per quanto riguarda l'airdrop e il deposito prima di entrare all'interno dell'exchange voglio ricordarvi che se utilizzerete il mio link che troverete chiaramente sotto in descrizione ci sono un sacco di cose perché se noi depositiamo più di 500 usdt riceveremo 20 dollari di bonus subito quindi una volta che depositate avrete subito 20 dollari di bonus che potete fare trading e i guadagni potrete prelevarli e inoltre vi verranno anche dati 25 crediti questi crediti una volta che lanceranno il loro token verranno swappati nel loro token call se depositiamo più di 2000 dollari avremo 100 dollari subito quindi se noi siamo bravi a fare trading soprattutto sulle opzioni poi andremo a vedere e facciamo guadagni possiamo prelevare subito i guadagni e avremo anche 100 crediti che poi verranno swappati nel loro token call quando verrà lanciato all'incirca fra un mesetto quindi grandissimi bonus che ci sta dando l'exchange perché coin call ci sono un sacco di cose è uno dei migliori exchange per quanto riguarda il trading di opzioni e per molte option abbiamo 1 0 spread questa è una cosa molto importante inoltre cosa abbiamo se andiamo a vedere vediamo che il primo exchange dove non detiene i nostri fondi i nostri fondi sono movimentati attraverso chiavi api e i fondi vengono detenuti da enti di terze parti quindi diciamo che abbiamo una maggiore sicurezza e incentivo inoltre voglio ricordarvi che hanno una fantastica academy dove vi spiegano un po tutti i concetti base quindi tutto quello che dobbiamo sapere sia per quanto riguarda l'exchange ma anche per concetti base del mondo delle cripto valute da come vediamo su questo exchange possiamo fare il trading sui futures e vedete che hanno inserito tantissime coppie di trading e inoltre se andiamo a vedere vedete che comunque la schermata di trading è fatta molto molto bene ho scelto come pairs bitcoin perp ed come vediamo la schermata di trading è fatta molto molto bene soprattutto anche per i trader alle prime armi inoltre voglio ricordarvi che se non sapete fare trading ma in the chart vi regala il suo corso di trading 12 euro di videocorso completamente gratuito in ogni modo vi lascerò tutti i link in descrizione per ottenere questo corso gratis in modo che potete muovere i primi passi in completa autonomia inoltre abbiamo anche lo spot trading ma ci sono meno coppie di trading sta lavorando molto sui futures sono entrati molti miliardi di volumi ma il pezzo forte di questo exchange è il trading delle opzioni ma andiamo a capire un po come funzionano le opzioni in ogni modo approfondimento lo troverete sulla loro academy e il concetto base cos'è le opzioni consentono alle persone di controllare le variazioni di prezzo di un gran numero di beni a un costo relativamente basso possono essere visti come una forma di assicurazione per le strategie di investimento aiutando a mantenere rendimenti relativamente stabili anche se il mercato subisce cambiamenti sfavorevoli le opzioni sono disponibili in vari tipi offrendo gli investitori diverse opportunità di investimento aiutando a coprire i rischi di volatilità del mercato e aumentando la stabilità e l'affidabilità dei portafogli di investimento questo è il concetto base delle opzioni ma perché utilizzare le opzioni ora andiamo a vedere un po come funzionano vedete che ci sono opzioni su bitcoin ethereum ma anche per molte altre coin per esempio Solana, Doge, Ripple, Cass, Litecoin, Matic, Link, Tron, Bitcoin Cash, Phil andiamo per esempio a scegliere ethereum e andiamo un po' a capire come funzionano le opzioni questo è un esempio chiaramente dobbiamo sempre fare ricerche e studiare e fare analisi tecnica prima di utilizzare le opzioni ci sono due tipi di opzioni opzioni call quindi compriamo opzioni put andiamo a vendere in una determinata data specifica andiamo a scegliere per esempio fra un mese per esempio la scadenza di queste opzioni che andremo a vedere sono fra un mese il 23 febbraio un mese e mezzo all'incirca facciamo un esempio io vado su ethereum questo è il grafico di ethereum al momento chiaramente dopo un'attenta analisi io penso che ethereum andrà a 3000 dollari entro il 23 febbraio 2024 questo è un esempio qua vediamo che possiamo comprare un ethereum per quella data quando da 3000 dollari e lo stake price 3101 dollari pagando solo 101.6 dollari qual è il collaterale come funziona che se ovviamente noi andiamo a perdere quindi non andrà a 3000 dollari entro quella data andremo a perdere 101.6 dollari qua vediamo che stiamo utilizzando una leva del 26.39 per e la cosa interessante è che per questo tipo di opzione c'è uno zero spread poi chiaramente noi scegliamo quanto comprare però qua il recap ce lo dice noi stiamo comprando ethereum per 101.10 dollari entro il 23 febbraio 2024 se ethereum non andrà a concare 3000 dollari o andrà sopra 3000 dollari questa opzione sarà worthless quindi cosa vuol dire andiamo a perdere 101.1 USD poi qua vedete nello specifico se andiamo a vedere se noi andiamo a 3.101 dollari non guadagniamo nulla andiamo pari ma se andiamo su per esempio al 3.200 dollari il 98% di guadagno 3.400 dollari il 296% di guadagno vedete quindi noi abbiamo la possibilità di comprare un ethereum se supera i 3.100 dollari con soli 100 dollari e quindi in questo caso se andiamo a 3.200 faremo il 100% dell'investimento 3.400 il 300% e via via salendo quindi questo è un modo per andare a prevedere il mercato e avere comunque dei bassi rischi però chiaramente ovviamente ci sono sempre dei rischi perché nel caso ethereum non andrà a 3000 dollari entro questa data perdiamo l'intero importo che andiamo a puntare sull'opzione però su larga scala è tipo un'assicurazione nel senso che se noi dopo tante analisi vogliamo andare a fare una copertura su ethereum le opzioni potrebbero fare a caso nostro questo è solo un esempio poi possiamo fare mille tipi di esempi per quanto riguarda le opzioni questo è solo un classico esempio per capire come utilizzare questo tipo di opzioni poi dipende poi sempre dal nostro tipo di rischio e investimento e soprattutto anche la strategia che noi abbiamo in ogni modo vi ricordo ancora che se vogliamo utilizzare opzioni possiamo farlo in maniera completamente gratuita perché se noi andiamo a depositare più di 500 dollari avremo subito 20 dollari gratis che poi possiamo direttamente utilizzarle per le opzioni e inoltre 25 coin call credits che verranno swappati quando lanceranno il loro utility token in ogni modo più andiamo a depositarlo come vedete più saranno grandi i bonus ovviamente troverete tutti i link in descrizione solo con il nostro link avrete questi bonus abbiamo visto in maniera molto veloce questo exchange che secondo me diventerà il migliore exchange per quanto riguarda il trading di opzioni in ogni modo potete utilizzare questo exchange anche da telefono in modo che potete fare il trading di opzioni o anche futures direttamente sul vostro telefono io con ciò ho concluso e noi ci vediamo al prossimo cripto appuntamento